ciao a tutti oggi è giovedì 22 giugno 2023 allora ci tenevo a farvi vedere un po questo aggeggio qui questa trappola che mi sono fatto l'anno scorso ne ho diverse tutte uguali perché ho molti topi in cantina o vicino a casa eccetera e abitando in una casa di sassi vicino un pollaio c'è il problema dei topi parlo dei topi quelli da campagna piccolini non non delle nutre via e quindi negli anni ho perfezionato questa trappola qui per poterli catturare vivi via per non doverli uccidere perché a me spiace usare la colla perché dopo si soffrono e mi spiace e quindi ho fatto questa trappola qui che riesco a prenderli vivi e poi dopo in macchina ma lontano magari un chilometro eccetera in mezzo al bosco li libero e credo che sia una cosa giusta mi spiace mi spiace ucciderli allora come funziona queste qua una trappola che avevo preso su ebay è fatta di lamiera stirata ai fori piccoli e molto importante perché se ne trovano anche quei fori più grandi però ne avevo una e scattava dopo il topo usciva perché il topo si stringe e se piccolino riesce uscire invece con questa con questa qui quando è chiusa così non scappano più allora un'altra cosa importantissima che abbia la sicurezza qua perché se il topo è grosso altrimenti spinge e vedete così non 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 si apre se invece non ha la sicurezza tende a aprire se il topo esce perché chiaramente c'è solo questa mollettina qua di contrasto e non fa niente quindi se ne trovate una così o simile con i fori piccoli hanno il loro blocco qua dovete dove c'è il frumento io l'ho tolto ho tolto tutto e l'ho modificata vi faccio vedere come allora prima facciamo vedere le modifiche allora in pratica ho tolto il blocco che aveva questo che aveva un diciamo un sistema che il topo andava sopra o toglieva il formaggio dipende dalla tipologia di trappola e scattava e rimaneva dentro io ho tolto tutto ho tagliato tutto c'era un filo qua l'ho tolto poi ho preso un arduino vedete questo qua è limitazione non è quello originale nano lo trovate su aliex presso dove volete anche usato eccetera questa è una shield di apposita quei morsetti vedete molto semplice l'arduino viene alimentato da questo alimentatore a 5 volt dc quindi corrente continua attaccato alla rete lui alimenta l'arduino entra direttamente nei morsetti di alimentazione e poi partono tre fili che sono quattro fili che vanno al sensore ultrasuoni che quello classico che trovate in tutti i kit di arduino questo qua è il kit telego quindi c'è 22 pin di controllo e l'alimentazione la terra e cinque volte la terra io li ho saldati perché tanto che c'erano saldati a staglio poi ho messo la guaina se non è proprio messa benissimo ma quella termorengente poi con la pistola lo stretta vedete ho fatto un foro nella rete col trapano e ho posizionato il sensore bello stabile ho preso una scattolina che avevo delle punte del trapano l'ho infilato dentro ci ho fatto due buchi in modo che sia non dico ermetica ma poi con questa grande tecnologia qua ovvero il filo di ferro lo stretto ma bello stabile non scappa mica vedete e poi e dopo per praticamente lui dal codice va a leggere la distanza che c'è tra tra la parte alta e la parte bassa che va tarata nel codice appena lui rileva un cambiamento di questa distanza attiva questo servo motore il servo motore come funziona appena attacco la la spina da codice lo faccio torna lo faccio girare di di 90 gradi in questa posizione in modo che mi va adesso qui non ho la luce da farvi vedere praticamente viva va a chiudere la trappola questo becco scatta e lo chiude poi la trappola diciamo rimane così adesso è ferma non la tiene ferma chiaramente il servo adesso perché non è attivo lui appena rileva un cambiamento di della distanza che tariamo noi in base alla trappola in base al codice che andremo fare lui sposta il servo chiaramente la trappola va tenuta così in tensione lui appena rileva un cambiamento fa ruotare di di 90 gradi il servo nella posizione come adesso e la trappola chiude così e il topo non scappa più per attrarre il topi potete utilizzare il frumento gano gano tenero uno e altrimenti certi usano delle patate nel formaggio meglio di no porto che con la nutella ma non funziona io mi trovo bene col frumento un po di frumento lo mettete magari lo mettete tutto il percorso li mettete vedete una piccola questa qua masonite sarà due o tre millimetri vedete che staccata è mobile vedete in modo che il topo vada lì in cima e appena appena va sotto il sensore tac scatta potete mettere anche se la trappola è molto larga ne potete mettere anche due ma con uno funziona bene io ne ho provate diverse versioni questa qua funziona bene l'importante che tarate giusta l'altezza in modo che la trappola si chiude la svelta vedete io l'ho fissata un po un po così ci ho messo vedete un due centimetri di trucciolato fissato con delle viti passanti e poi ho tirato i cavi qua i tre cavi del del servo sono questi cinque volte la terra e il filo di per comandarlo e poi vedete tutto e poi c'è la shield con l'arduino alimentato da questo alimentatore poi è una scatola di derivazione comunissima dopo si chiude tutto così vedete mettere uno mette il tappo il gioco è fatto molto molto semplice se la volete fare mobile potete fare la batteria con una pila da 9 volt credo che non ci siano problemi io lo faccio collegato alla linea di casa perché mi risulta più comodo potete allungare il cavo abbastanza lungo vedete è molto semplice funziona se avete necessità di avere il codice ve lo posso dare chiaramente dovete poi utilizzare i pin che ho usato io li vedete nel codice se vi serve il codice scrivetelo pure nei commenti e ve lo mando l'ho fatto io non è un codice fatto da un programmatore a una minimo di temporizzazione all'inizio perché dava dei falsi segnali appena si dà l'alimentazione scattava comunque è molto molto semplice trovate esempi di codice per questo sensore per il servo ne trovate quelli che volete basta che li mettete un attimo insieme in base ai pin che avete collegato che collegate nella shield è molto 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 semplice una cosa proprio da fare se avete un figlio volete divertirvi un po e mettete lì un pomeriggio lo fate vi divertite un po lui impara a usare arduino che è una cosa molto importante secondo me per i giovani sapersi divertire costruendo delle cose io lo faccio così per passione e poi se avete qualche troppo per casa riuscite a prendere con facilità qualche topino piccolino e potete rilasciarlo avevo provato che prenda delle arvicole ma non ce l'ho mai fatta sì qui abbiamo la piaga delle arvicole adesso dopo faccio un video vi faccio vedere una trappola per le arvicole ma c'è non le intrappola quella via proprio una vera trappola perché sì essendo ce n'è tante c'è poco da fare nell'orto e nient'altro via se avete necessità di qualche ulteriore informazione scrivete pure nei commenti o scrivetevi al nostro gruppo di telegram e che siamo a vostra completa disposizione va bene e nient'altro vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao a tutti ciao ciao ciao